Mr. Maurizio, la più bella giornata di sport oggi al Mazzella, una grande squadra, un grande pubblico, un grande risultato. Sì, ancora mancano 90 minuti e queste partite devono essere viste nella doppia ottica. Certo, è un buon risultato, un grande risultato, soprattutto un bellissimo gioco espresso, anche al Manterboso migliorato e alla qualità dei calciatori che sono tornati tutti a disposizione. Questa era quasi la stessa squadra che aveva battuto il Martina e poi da lì abbiamo avuto grandissimi problemi dove ci sono stati dei vari infortuni e è inutile rimbancare il passato. Adesso pensiamo a questa vittoria che è stata un'ottima prestazione sia in termini di risultato sia in termini di prestazione. Secondo me l'abilità dell'Ischi è anche nel non cadere nelle provocazioni della verse. Sì, adesso dobbiamo stare soprattutto a ritorno in questo. Dobbiamo stare attenti soprattutto a ritorno, mi dispiace che hai preso quel gol perché comunque un gol a palla, non so, abbiamo preso un gol strano come ci capita. Se è uscita la palla? Se è uscita mi dispiace però la palla potrebbe essere calciata prima e quindi in quell'occasione non si rischia più niente perché insomma voglio dire 3 a 0 con 3 gol di scarto era già tanta roba. Meno male che abbiamo ristabilito 3 gol di scarto. Secondo me oggi è una squadra che ha giocato bene tutta però a me fa piacere sottolineare Sirignano che è stato eroe sia nell'area avversaria che nella sua area. Ma Sirignano lui sa quello che penso di lui, lui sa quello che penso di lui in gioco di parole, è un grandissimo calciatore come tanti che stanno in questa squadra e la differenza tra loro e chi gioca in serie B magari sta nel mantenere alta la concentrazione nell'arco di una settimana, nell'arco di una gara. Questa è la grossa differenza tra i grandi calciatori e questa serie. Sirignano ha la possibilità di fare categorie superiori come molti di questa squadra ma è come qualcuno che l'ha fatta perché hanno una testa diversa. Loro hanno recriminato per alcune occasioni ma secondo me l'Ischia ha avuto l'opportunità non solo di fare 4 gol ma ha avuto anche delle grosse palle gol e ha gestito sempre la partita nel modo migliore. Ognuno poi guarda in casa propria come è giusto che sia, noi abbiamo fatto due falli stupidi, una a destra e una a sinistra, hanno battuto due punizioni laterali di seguito, hanno eseguito tre calci d'angolo di seguito in una punizione e due calci d'angolo di seguito in un'altra e lì siamo andati un po' in sofferenza ma più psicologica per la nostra psicosi di calci d'affermo. Però credo che sia palese quello che sia avvenuto in mezzo al campo e adesso dobbiamo stare molto attenti alla partita di ritorno perché getteranno il cuore oltre l'ostacolo o gli arriveranno con un atteggiamento abbastanza aggressivo credo. L'ultima domanda, Infantino oggi non ha segnato però anche quando non segna si sente la sua importanza come è capace di far salire la squadra? E' un grande calciatore, un grande uomo e un grande calciatore.